Ci sono le partite di sera e ci sono le partite serali, ci sono le partite da campionato, ci sono le partite del campionato, ci sono le partite da tre punti e ci sono le partite da sei punti. Ci sono le partite che contano e le partite che contano veramente, ci sono i derby e poi c'è il derby. E allora adesso sono partiti ufficialmente, il primo pallone è nostro con Leonardo Bonucci fino alla fine del primo tempo. Forza ragazzi, la Juve Gold! Che cambia a destra per De Silvestri. De Silvestri alla traversone, Chiellini! Poi il pallone arriva a Belotti che però non riesce ad andare a una buona conclusione. Perde il contrasto con Meite, dall'altra parte Berenguer. Dovrà recuperare senza successo Matuidi, attenzione pericolo, l'apertura dentro l'area per Belotti, destro! Scesni chiude i guantoni, la porta, calcio d'angolo a favore del Toro, il primo dell'incontro. La Chiellini in marcatura su Meite, il pallone è lì, poi la Juve libera e il tiro di Berenguer al volo con il pallone altissimo. Attenzione, Pressin con Bonucci che perde il pallone, occasione per il Toro, gol! Tutto regolare dice l'arbitro. Torino in vantaggio al minuto numero 17. Disattenzione clamorosa dei nostri, attenzione. Nostra rimessa in gioco all'indietro, Lukic va a prendersi il pallone senza fallo e lo deposita in porta al minuto numero 17. Piani c'è più lento di Lukic che gli porta via palla e va a segnare senza problemi. Quadrado, palla e mezzo per Ronaldo, lo stop di petto, se la alza, poi gira bene per Matuidi al volo! Grandissima parata di Sirigu! Juve subito vicino al pareggio, non è finita. Spinazzola, finge il traversone, poi lo effetta dall'altra parte, è il quadrado! Cerca! Anche lui alla volo! Limite dell'area di rigore, attenzione, Ronaldo può tirare. Destro di Cristiano! Palla fuori di poco. Cancelo, attenzione, Ronaldo al limite, destro subito! Tira sempre Ronaldo, la palla quest'olta è bassa e non particolarmente veloce. Non riesce ad andare alla deviazione la Juve, contraattacco del Toro, attenzione con Ansaldi! Attenzione ragazzi, bisogna chiudere, recupera Chiellini, varco per Berenguer, il cross deviato Matuidi, ancora però prende la palla al Toro con Ansaldi, il sinistro dalla lunghissima distanza, è il numero 15 in maglia Granata. Palla alta sopra la traversa. Partiti fino alla fine, forza Juve Gold, eh ragazzi! Parte il ricorso anche Bonucci, la cross per Ronaldo! Un po' di testa, alto da parte di Cristiano Ronaldo, niente da fare per noi. Spinazzola, attenzione, percussione centrale, limite, in destro! Fuori! Spinazzola, punta Izzo, Spinazzola, Spinazzola, doppio passo, area di rigore, doppio passo, sinistro è deviato, la palla rimane lì, attenzione! Potevamo andare alla conclusione con Federico Bernardeschi, non ci riusciamo. Si prosegue. Quadrado è posizione da Mezzana. Chiellini. Dentro per Ken, Ken si gira col sinistro! Una buona l'intuizione. Mette, attenzione, attenzione alla percussione fino al limite dell'area di rigore, col sinistro! La palla alta, possibilità per Aina. Spinazzola, Spinazzola, il cross, bello per Ronaldo di testa, gol! Gol, 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 gol! La Juve, gol, con Cristiano Ronaldo! E mette in rete il suo gol numero 601 con squadra di club. Il gol numero 28 con la maglia della Juve, ma soprattutto il gol del derby, ancora una volta, lo va adesso a pareggiare. Arriva uno, arriva due, arriva tre, questa volta con decisione, Orsato segnala che non c'è più tempo per nessuno. Le squadre definitivamente negli spogliatoi, il derby finisce per uno a uno, il gol in vantaggio di Lukic e poi il pareggio, tanto per cambiare, di Cristiano Ronaldo.